Si sblocca il medagliere azzurro alla seconda giornata di gare grazie a Rachele Bruni che conquista un bellissimo bronzo nella 10 km femminile, gara importantissima del nuoto in acqua e libere in quanto a distanza olimpica e quindi metteva in paglio oltre che le medaglie la qualificazione diretta per le prime 10 atlete alle olimpiadi di Tokyo 2020. La gara che si è svolta come tutte le gare di nuoto di fondo nella zona portuale dell'area Expo Dom Le 12 di Yauzu, la temperatura dell'acqua è di 22 gradi quindi perfetta, gara che si è svolta su un circuito di 1666 metri ripetuto per 6 volte. Le tre principali favorite erano la campionessa olimpica all'olandese Sharon Rovendal, la brasiliana Anna Marcella Cugna e la francese Aurelie Muglier campionessa nel mondo nel 2015 e 2017. L'Italia portava Rachele Bruni, Argento Olimpico e Arianna Bridi che è stata bronza nella 10-25 km mondiali di Budapest e campionessa proprio nella 10 km ai campionati europei di Glasgow l'anno scorso. Parliamo un po' di com'è andata la gara. Primo giro, partenza sprint soprattutto da parte della Cugna e della Van Rovendal, le italiane più tranquille intorno alla 30-40 posizione rispettivamente a 19-29 secondi di distacco dalle prime. Con il secondo giro il ritmo un po' si tranquillizza e anche nel terzo giro, con solo un po' di forcing da parte della statunitense Anderson, ma niente di particolare. Quarto giro iniziano ad accelerare con la francese Lara Grangeon che prende in testa praticamente tutto il giro con in scia la compagna di squadra Aurelie Müller. All'inizio del quinto giro, all'inizio del quinto giro, tuntano alla fuga proprio le due francesi, ma vengono riprese quasi subito dalla tedesca Wurram. Bruni e Bridi recuperano parecchie posizioni. Per tutto il giro le francesi si danno il cambio in testa. All'inizio del sesto giro abbiamo davanti la Müller seguita la Grangeon dalla Wurram, dalla Cugna, con la Bridi in settima posizione e la Bruni in decima, molto male invece la Van Rovendal intorno alla ventesima posizione a 16 secondi. Il finale è molto caotico, fino ai 300 metri resta in testa la Müller, che però sembra piantarsi e viene superata da tantissime atlete. Ad avere la meglio è la cinese Xin Xin, sorprendente perché non era data da nessuno tra le favorite, praticamente nemmeno per la top 10, un atleta abbastanza sconosciuta. È uscita fuori dal nulla con una progressione incredibile ed è andata a vincere con circa 2 secondi di vantaggio sulla statunitense Haley Henderson, con 3 secondi sulla nostra Rachele Bruni, che riesce a battere per solo un centesimo la francese Lara Grangeon al tocco della piastra finale. Quinta posizione per la deludente Cugna e decima posizione per l'ancora più deludente Van Rovendal. Fuori dalle Olimpiadi purtroppo Arianna Bridi, che chiuse il tredicesima, ostacolata anche da un cambio di reazione un po' ai limiti del regolamento di Grangeon. Fuori dalle 10 anche Müller, che si è proprio piantata negli ultimi 300 metri. Sono contentissimo per questa medaglia, peccato per la Bridi e speriamo che questo mondiale possa continuare con altre medaglie. Comunque per questo video è tutto, vi invito a lasciare un commento, mi piace, iscrivervi, seguirci anche sulla nostra pagina Instagram e noi ci vediamo a un prossimo video. Grazie a tutti.